Ma conto sulla tua amicizia. Ah, ascoltami. Cerca di ragionare. Noi non c'entriamo, è stato solo un fottuto incidente. Cosa vuoi che confessiamo tutto per mettere in pace la nostra coscienza? Non serve né a noi né a stesi. Forse hai ragione. È stato un incidente, pensa solo a questo. Andrà tutto bene, vedremo. Crollere? Prima o poi. Non aspetteremo che accada. Michael, sapevi che la mia squadra che stava perdendo ha recuperato lo svantaggio in modo sorprendente? Bene, sono contento che...